Il 2015 è stato un anno eccezionale per il mezzogiorno, ha interrotto sette anni di cali del prodotto e ha realizzato una crescita maggiore di quella del centro-nord. Lo afferma lo Svimez nelle anticipazioni del rapporto 2016, anche se le previsioni di crescita del PIL italiano per l'anno in corso sarà di appena lo 0,8%, con il sud che frena e il nord che accelera. Questi dati dimostrano comunque che la grande recessione ha colpito severamente ma non ha fatto venire meno la capacità del mezzogiorno di rimanere agganciato allo sviluppo del resto del paese. Non sarà quindi, afferma Svimez, solo un anno positivo dopo sette di continue flessioni a disancorare il mezzogiorno da questa spirale di bassa produttività, bassa crescita e quindi minore benessere. Del resto, la crescita del prodotto nelle regioni del sud ha beneficiato nel 2015 di alcune condizioni peculiari. La nata agricola particolarmente favorevole, la crescita del valore aggiunto nel turismo, la chiusura della programmazione dei fondi strutturali europei che ha portato ad un'accelerazione della spesa pubblica. Se il meridione in materia di occupazione fa meglio del nord, rimane comunque al di sotto del livello del 2008, di quasi mezzo milione di occupati, mentre il resto del paese è quasi a livello pre-crisi. Non mancano alcuni elementi di preoccupazione. Secondo Svimez, sono il calo del lavoro nella manifattura che porta il rapporto a parlare di crescita senza industria e il progressivo degrado dell'occupazione, sempre più concentrata su impieghi a bassa qualificazione. Sempre Svimez, nelle anticipazioni del rapporto annuale, indica che la Basilicata, grazie soprattutto all'automotive, ha il ritmo più intenso di crescita, seguita dal Molise e dall'Abruzzo, spinto dall'industria. La Sicilia e la Calabria crescono per l'eccezionale performance dell'agricoltura, molto più contenuta è la partecipazione alla ripresa di Campania, Puglia e Sardegna, per la presenza di alcune crisi nel comparto industriale. Nonostante questo, l'apparato produttivo meridionale, sopravvissuto alla crisi, evidenzia la presenza di un gruppo di imprese dinamiche e innovative, con un grado elevato di apertura internazionale, inserite nelle catene globali del valore. Dunque c'è da sperare per il futuro.